facciamo sto video e togliamocelo dalle palle e io a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video e io siamo oggi con un gioco particolare ragazzi perché io soffro di flatulenza ormai penso che lo sappiano tutti anche se ne dubito però io soffro di flatulenza e ho deciso quindi di fare che cosa? di andare a scorreggiare addosso alle persone quindi andiamo a scorreggiare addosso alle persone dai cerchiamo di toglierci sto sfizio e oggi giocheremo con un gioco che si chiama Fart Simulator 2018 ragazzi allora non credo sia uscito quest'anno quindi direi di farci una bella partitina e vediamo che cosa ne è uscita fuori da questa cosa allora Fart Time quindi c'è pure il tempo di scorreggio perfetto ah pure il punteggio allora press, pause or skip to continue voilà quindi che devo fare? ah perfetto vieni qua ciccio vieni qua vieni qua ma io mi diverto perché è stato il sogno della mia vita no pure la polizia aspetta oh ma che vuoi tu? no scappa via no ma che ciccio senti togliti dai coglioni che è successo? riduzione di pressione ma perché? cioè sono scoppiato nella mia stessa merda vabbè che schifo scorreggione scorreggione vai così scorreggiamo addosso le persone vieni qua dove vai? c'è pure la polizia scappa dalla polizia sono uno scorreggione incallito grazie molto gentile senti? oh ma che scusa eh ah non devo fare scadere la barra del tempo altrimenti no cazzo via 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 scappa 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 non mi prendrete mai non mi prendere micchia oh ma che no sono scoppiato ragazzi sono scoppiato allora ah devo evitare questi W perché sennò sono tipo bulletti che mi prendono ma io ti caco addosso ma che cazzo vuoi? eh vabbè eh che cosa si è no cazzo vabbè eh vabbè ma io non ti ho cacato a te volevo quella di là dove vai? vi lasciami in pace gentilmente grazie è molto gentile doppio eh doppia scorreggione ragazzi ma io scorreggerei oh ma che vuoi? ma senti togliti dalle palle no lasciatemi in pace io scorreggio addosso ai poliziotti mi chiamano arrestato disturbo alle acquette pubbliche che cosa ha fatto di preciso niente scorreggio addosso le persone io il bullo mi doveva vendicare oh ma tu come ti permetti mollami scorreggiamo addosso perché? ma non c'era la polizia ma perché? ho scorreggio sorreggio addosso l'induzione di pressione può essere che scorreggio troppo troppo in fretta non lo so non ne ho idea ah ecco se quindi faccio finire il fart timer esplodo perfetto mi devo toglierlo lo sfizio eh suka toguiti no ma dava vieni qua metallara senti nerd double fart grande così si scorreggia così si scorreggia ops no cazzo scappa scappa via 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 eh vaffanculo sono esploso che bello esplodere quanto mi piace esplodere si mi piace un sacco però non l'ho capito ma i livelli me li sblocca perché c'è pure lo sblocco del livello in teoria dai vieni qua il bulletto di pittà non ci ha cacato minimamente ops via dalla polizia aspetta devo scorreggiare ciccio levati ma che cazzo ma da dove siete spuntati scorreggiamo addosso siii che cos'è you open new boost check it out fortification wow quindi che significa che posso scorreggere più in fretta you open new game mode fart x perfetto quindi andiamo ah no aspetta io voglio fare ah ah ecco abbiamo sbloccato un nuovo un nuovo livello quindi andiamo fart x vediamo che livello è dai se in quello scorreggiamo addosso la persona penso che adesso ci calchiamo addosso giusto crashato non partirà mai non lo sapremo mai ok è partito push fire rapidi va bene e quindi che devo fare ah lo devo premere velocemente ok e poi tra l'altro posso premere sia il tasto del mouse che sia la F però vabbè dettaglio e che succede quindi no vabbè dai mi piace mi piace un po' no no aspetta questi qua sono dei obiettivi c'è da delle cose da degli oggetti da prendere o sono dei blocchi non lo so che cazzo si proviamo aspetta ah si vale si devono prendere sono dei punti ecco perché ho capito va bene allora e che cosa sono dei cactus non lo so piselli buh c'è scritto pis no non ce la faccio vai prendilo prendilo ce la faremo raga ce la faremo si che ce la fai si che ce la fai era finito raga era finita all'ultimo minuto la prendi dai porca putta e prendili vai che ce la siamo ci stiamo riuscendo quanto siamo di alti livelli speriamo di sbloccare un altro livello comunque perché non mi sembra il caso di rifarlo yeah sto diventando un pro c'è poco da fare vai così dai eh ce l'abbiamo fatta all'ultimo eh cazzo dobbiamo prenderli dobbiamo prenderli dai 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 stiamo uscendo fuori dalla terra ragazzi usciamo fuori dalla terra dalla terra penso che non ci sia più gravità e quindi automaticamente non possiamo più scorreggia non lo so ho detto una parola a casa no 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 vaffanculo aspetta non lo posso prendere vaffanculo eh spe no non me lo sblocca il livello ma io voglio un altro livello non voglio solo questo vabbè li sto evitando tutti cioè tanto vale che vabbè eh vaffanculo eh si ricomincia vai così che all'ultimo minuto dai ma poi che cazzo di di scorreggere cose che cazzo ho mangiato questo per scorreggiare così arrivare fino all'orbita della terra ma ci siamo eh ma mica sempre là nel momento in cui mi sposto per andare dall'altro lato le ritrovo sempre là occhio occhio c'è la breve eh sì eh sì vai così mi devo ricordare più o meno dove sono comunque ma c'è parte che sono da quel lato vaffanculo l'ho preso ok 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 ce la stiamo facendo ragazzi siamo fuori l'orbita credo stiamo andando oltre l'orbita terrestre ok vediamo le stelle già perfetto perfetto porca puttana non l'ho preso stava finendo stava finendo vai cazzo dai che ce la fai dai che ce la fai dai che ce la fai sì voglio andare a finire sulla luna voglio finire sulla luna ce la possiamo fare no no cazzo prendila prendi bravo bravissimo oh donna mia ragà no prendila prendila sì di grande ok ce la possiamo fare ce la possiamo fa niente ok non vedo più un cazzo eh ce l'abbiamo fatta sì ce l'abbiamo fatta ragazzo ce l'abbiamo fatta sì ok siamo finiti sulla luna perfetto hi man ciao man what are you surprised that perchè sei così sorpreso ah plastic bag or my head ah c'è un sacchetto di plastica sulla mia testa vabbè dai diciamo che me lo sarei dovuto aspettare scorreggia dosso la persona non è che abbiamo sbloccato un boost ok allora io direi per questo video è tutto se volete un altro seguito degli altri livelli fatemelo sapere nei commenti lasciate un mi piace ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao